Per accompagnare i cantanti, ha accompagnato i cantanti anche l'Agnario di Stato, e accompagnato quasi in merita dei ragazzi che hanno fatto l'esame di Stato. Quindi è un lavoro proprio enorme, lo vorrei ringraziare per conoscere. Grazie a tutti, grazie a tutti. A noi vogliamo venire il prossimo concerto, il prossimo concerto. Sicuramente, noi abbiamo appena cominciato, anche lo qui. Allora, vi presento bellugiamente il brano, loro eseguiranno la sonata di Famille Sansan, per clarinetto e pianoforte, la versione originale. Grazie. 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 Grazie.